Una scoperta che mai nessun genitore vorrebbe fare nella sua vita, alzarsi alle 5 del mattino per andare a prendere la propria creatura nel lettino per la poppata e trovarla ormai senza vita. È successo ad un papà di Montevarchi che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi si è alzato all'alba, ha preparato il biberon con il latte ma una volta presa in braccio la bambina si è accorto che non respirava più. Dopo la terribile scoperta un grido di aiuto che ha svegliato la madre e i parenti è stato subito allertato il 118, i sanitari accorsi nell'appartamento hanno cominciato a praticare sulla neonata tecniche di rianimazione per 40 minuti purtroppo in vano. Una tragedia che si è portata via una piccola di un mese e mezzo, la bimbera, la primogenita della coppia. La salma è stata quindi trasferita all'ubitorio dell'ospedale Valdarnese della Gruccia e qui immediatamente sottoposta agli accertamenti previsti per legge in questi casi per verificare l'ipotesi della SIDS, la sindrome della morte in culla, una casistica che ancora non è stata del tutto chiarita dalla comunità scientifica ritenuta però tra le più importanti cause di morte dei neonati sani.